La mammografia è una procedura diagnostica di straordinario valore. Ovviamente come tutte le procedure diagnostiche qualche elemento negativo ci può essere, vale a dire sono situazioni nelle quali la mammografia non riesce a evidenziare una patologia presente. Questo può dipendere dalle caratteristiche della struttura mammaria propria di ogni donna e può dipendere anche invece dalle caratteristiche del tumore. Questi sono i casi in cui si parla di falsa negatività perché in realtà appunto poi si rivela che la patologia è presente. Esistono invece per converso i casi di falsa positività quando il radiologo ritiene di avere un sospetto di notare un elemento di sospetto fa approfondimenti che poi alla fine portano invece la conclusione che in quel caso non esiste alcuna patologia si tratta appunto di casi cosiddetti falsi positivi.